Dalla giunta itinerante della scorsa settimana presso il quartiere Sacro Cuore, zona stazione, novità per la riqualificazione dell'area della stazione e anche un progetto di restyling della ferrovia? Sì, è un impegno che abbiamo preso da tempo con il quartiere della stazione. Abbiamo sottoscritto circa dieci giorni fa la convenzione con le ferrovie dello Stato che da prima abbiamo fatto qualche ritardo perché prima l'area veniva concessa gratuitamente al Comune per sei anni, adesso hanno voluto un cano in anno di 16.700 euro. Dunque abbiamo dovuto trovare questa somma, abbiamo firmato dieci giorni fa la convenzione, adesso provvederemo alla validazione del progetto esecutivo e speriamo all'inizio del prossimo anno iniziare i lavori di riqualificazione del tratto di fronte a Globo per far sì che vengono realizzati 110 stalli di sosta in quella zona che sono importanti sia come parcheggio di scambio per i pendolari che vanno a lavorare fuori Comune alla mattina e anche per i residenti. Una risposta importante quindi per i residenti di quella zona, invece per quanto riguarda il progetto di restyling della ferrovia? Sì, entro fine mese le ferrovie, una società delle ferrovie dello Stato dovrebbe proporre una proposta che prevede l'arretramento della stazione in quel tratto e riqualificare a spese l'oro di questa società che si chiama Pegaso, che permetterà di riqualificare e di collegare sia la parte della stazione con la zona della Gammarana, dunque questo è un progetto importante che se troverà forma e piede ci permetterà di riqualificare quell'importante zona di Teramo e il collegamento con le due parti della città che è di notevole importanza soprattutto per la zona della Gammarana.